Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata di Affinity Photo Tutorial. Oggi voglio spiegarti una tecnica per applicare una filigrana piuttosto invasiva sulle tue immagini. Tu sai bene che io sono contrario un po' a questa pratica, cioè delle firme, delle scritte, delle filigrane piuttosto invadenti sull'immagine perché vanno a mortificare l'immagine stessa, ma sono consapevole che in determinati contesti può tornare utile. Io voglio appunto farti vedere come puoi realizzare una filigrana di questo tipo, ti sto portando proprio un esempio qui di un'immagine dove ho applicato la filigrana che può tornarti comoda quando magari devi consegnare delle anteprime a dei clienti che devono scegliere quale foto acquistare o stampare. Quindi vuoi proteggerla nel modo più sicuro possibile. In questo tutorial ti spiego come farla e come avere questo file sempre disponibile per applicarlo velocemente in tante altre immagini. Ed eccoci qui sul desktop il mio computer, puoi vedere in modo chiaro il tipo di filigrana che andremo a creare, però prima di iniziare come sempre ti ricordo che se troverai complessi i concetti che ti spiegherò da adesso ai prossimi minuti io ho realizzato un corso completo su Affinity Photo, dalle basi fino ai concetti più avanzati. Ti metto qui nelle note dell'episodio il link ad una pagina dove potrai trovare tutto il corso, tutto il programma, potrai accedere a delle lezioni tratte dal corso e quindi farti anche un'idea di come vado ad affrontare gli argomenti e se farà per te potrai decidere di salire a bordo. In quel caso per me sarà veramente un piacere. Ma adesso continuiamo con questo tutorial. Qui ho la filigrana che vado subito ad eliminare perché andremo a crearla da zero, quindi cancello questo livello. Il primo passaggio che devi fare è creare un rettangolo nero, quindi andiamo sugli strumenti qui sulla colonna di sinistra, scegli strumento rettangolo, colore di riempimento nero, quindi mi raccomando sulle opzioni accertati di avere il colore nero e vai a creare un rettangolo, non ha importanza dove vai a posizionarlo, l'importante è che sia un rettangolo più o meno, ecco così potrebbe andar bene. Adesso vado ad inserirci una scritta che deve essere bianca, quindi torno sugli strumenti e scelgo lo strumento testo artistico, mi raccomando, scelgo questo testo, vado sopra il rettangolo nero, regolo le dimensioni del testo, dopo potrò ridimensionarlo, colore del testo accertati che sia di colore bianco, mi raccomando bianco, il font, decide anche il font eventualmente, potreste avere Arial come default, io ho scelto Century Gothic e andiamo a scrivere il testo che vogliamo, nel mio caso metto copyright spazio alessio.com che è il mio sito web, cambio lo strumento, strumento sposta, in modo tale da spostare questo testo in alto a sinistra, che si agganci in alto a sinistra in questo punto sull'angolino, l'effetto calamita deve essere attivo, mi raccomando è qui in alto, accertati che sia attivo. E vado a regolare le dimensioni, se il testo è troppo ampio rispetto al rettangolo, lo porto all'interno del rettangolo, quindi in sostanza devo arrivare alla fine ad avere questa cosa qui, il testo all'interno del rettangolo agganciato in alto. Andiamo sulla scheda livelli e andiamo a vedere cosa abbiamo, l'immagine di sfondo ovviamente, abbiamo il rettangolo ed il testo. Seleziona i due livelli testo e rettangolo e raggruppali, tasto destro, raggruppa, o command G di Genova o control G di Genova col tasto rapido. Abbiamo creato questo gruppo, andiamo a duplicarlo, quindi tasto destro, duplica. Vedi che si è creato un altro gruppo. Sempre con lo strumento sposta che dovrebbe essere rimasto attivo, praticamente abbiamo due gruppi identici. Sposto un po' più in basso, vedi che c'è una coppia. Quello che devi fare è agganciarti qui sul fondo e poi spostarlo verso destra finché si agganci giusto a metà. Quindi vedi che si sovrappone leggermente a metà tra uno e l'altro. Benissimo, torniamo sulla scheda livelli, selezioniamo i due gruppi disponibili e raggruppiamoli a loro volta. Quindi tasto destro, raggruppa, ottimo, abbiamo creato un gruppo unico che contiene i due rettangoli con i due testi. Adesso c'è un passaggio fondamentale da fare. Bisogna rasterizzare questo gruppo. Per farlo, tasto destro, rasterizza. Cliccando lì, sparisce tutta quella che è l'opzione del gruppo, scritta, rettangolo. Rimane un file unico, come fosse un png per capirci. Un rettangolo, due rettangoli neri con i due testi. Questo mi serve per usufruire di una funzionalità di cui ti ho già parlato nel video dedicato alle novità introdotte da Affinity Photo. E come funziona? Con il livello selezionato qui, andiamo sulla voce livello e seleziona nuovo livello motivo da selezione. Clicca, voilà, ecco la magia. Praticamente ha duplicato, ha replicato, più correttamente dire, la nostra forma, la nostra scritta che abbiamo realizzato. Abbiamo un livello a parte, che è questo qui che è stato appena creato. Possiamo cancellare quello precedente, quindi seleziona il livello precedente e cestinalo. Da ora in avanti lavoreremo su questo livello qui, che è il pattern vero e proprio. Tant'è che quando io seleziono questo livello, vedi che ho comunque quest'area evidenziata con il rettangolo che mi permette di regolarne le dimensioni, di cambiarci inclinazione, eccetera. Posso farci veramente tante cose, spostarlo e tutto il resto segue a sua volta. Sono come collegati tra loro. Modifichi 1 si modificano, tutti quanti. Ma così ovviamente è inutilizzabile, non è bella. Ma cosa facciamo noi? Su questo livello andiamo a cambiare la modalità di fusione. Da normale vai a scegliere scherma. Voilà, ecco cosa succede. Rimane visibile la scritta in bianco, il nero scompare. E quindi abbiamo questa filigrana sopra la nostra immagine. Ci sono delle operazioni da fare per abbellire il tutto. La prima è quella di inclinare la filigrana e per farlo ti basta appoggiarti qui, su questo punto di ancoraggio che ti permette di regolare l'inclinazione. Tieni premuto il tasto shift, quello per le maiuscole, e vedi che puoi andare a step di tot gradi. 15 gradi, 30 gradi, inclina di 30 gradi anti-orario. Questa qui è quello che ti consiglio io, dopo fai quello che vuoi. Questa è la prima cosa. Secondo passaggio, opacità, andiamo ad impostare 30%. Voilà, ecco che è in trasparenza. Quindi i due valori, 30 gradi, 30% di opacità. Adesso puoi ovviamente sempre regolare le dimensioni in base a quanto vuoi rendere piccola la scritta, invadente, dipende un po' da te. Qui sono gusti personali. Io scelgo queste dimensioni, non eccessiva per avere troppe scritte in mezzo e nemmeno troppo piccola per non riuscire a leggere cosa c'è scritto. Bene, abbiamo fatto. Questo è il tutto. Rimane solo un ultimo passaggio da ricordare, ovvero come posso utilizzare poi questo pattern su altre immagini. Per farlo vado a sfruttare gli asset. Quindi andiamo a visualizzare gli asset. Per farlo vai su visualizza studio e attiva asset. Comparirà questa colonna che adesso io ho tante cose all'interno. La tua dovrebbe essere praticamente vuota. E cosa faccio qui sugli asset? La sposto un po' a destra. Io ad esempio vado all'interno di una categoria che avevo creato. Seleziono il livello modello, questo qui che è praticamente il pattern, puoi anche rinominare come ti piace a te, diamo un nome, lo chiamiamo firma. Perfetto, eccolo qui in modo da capire di cosa si tratta. Eccolo qua, il livello firma. Con questo selezionato vado sulla categoria, clicco qui, aggiungi da selezione. Voilà. Viene aggiunto, vedi, quel file che si chiama firma. Quel file sarà sempre disponibile all'interno di Affinity Photo. Quindi anche se tu chiudi Affinity Photo e lo riapri, sarà lì disponibile. Ma ne parlo nel corso che ho realizzato. Andiamo avanti. Perché ho fatto questo? Perché se adesso io ho un'altra immagine, questa immagine, e voglio applicare questo pattern, non devo ripetere tutta la procedura come prima. Basterà andare in asset, vado a prendere questo, lo trascino qui e voilà. Viene applicata la filigrana. Non mi resterà che regolare le dimensioni che voglio del mio pattern. Andiamo avanti. Questa immagine. Trascino. E ridimensiono. Voilà. E avanti così. Insomma, su tutte le immagini di cui dispongo, posso velocemente applicare questa filigrana. Ed eccoci alla fine anche di questo tutorial. Come ti è sembrato, secondo me, è molto molto utile. Perché in determinati contesti, questa funzionalità è comoda. Come sempre, vai qui sotto nei commenti e lasciami un feedback per farmi capire se ho fatto qualcosa di interessante, se conoscevi questa tecnica. Insomma, fammi sapere cosa ne pensi di questo video. Se non sei ancora iscritto, la maggior parte di voi che guardano questi video non è iscritto al mio canale, iscrivetevi, un clic sulla campanellina per sostenere il mio progetto. Se vuoi fare ancora qualcosa di in più, puoi diventare un Patrons. Sostenere il mio progetto anche con un euro al mese, puoi darmi una mano a continuare nella realizzazione di contenuti di questo tipo. Oppure, ancora una volta, ti rimando al mio corso completo su Affinity Photo. Se credi possa essere utile per te, insomma, hai qui sotto, nelle note d'episodio, il link alla pagina con tutte le informazioni che ti servono. Per questo video è tutto. Ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo video.